Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti nella quattordicesima, se non sbaglio, questione del Marchese. Allora, premettiamo una cosa, premettiamo che questa sarà non l'ultima, non l'ultimissima, ma l'ultima per ora puntata della questione. Perché? Perché da giovedì questo inizierò a lavorare, ho uno stagio di tre mesi che mi porterà via molto tempo, pertanto ho pensato di dedicare gli spazi su YouTube e il tempo che ho per fare altro, cioè nel senso di portare via altri video e limitare gli immagini dove magari posso tagliare. Ho deciso di tagliare questa cosa qua perché c'è i YouTuber Steam che andranno avanti il lunedì, i post partita che andranno avanti quando saranno, le varie analisi e così via, ma di tutto ciò potevo limare solo una cosa, la questione del Marchese perché anche in caso non ci fosse il canale potrebbe andare avanti tranquillamente. Quindi per tre mesi dello stage, perlomeno poi magari avrò altri impegni ma riuscirò a registrare di più, mi tengo un po' limitato. Detto questo, appunto perché è quest'ultima, per questa volta, questione del Marchese, vi mando la sigla ma la questione sarà un po' diversa. Allora, la questione del Marchese spesso si è centrata, concentrata sulla Juventus, spesso sul calcio al di fuori della Juventus, e in generale, insomma sempre sul calcio. Questa volta voglio chiedere una cosa invece su di me, ma non su di me come persona che magari non mi conoscete bene, ma sul mio canale. E vi chiedo appunto una domanda semplice. Cosa migliorereste nel mio canale? Qualsiasi cosa che magari non mi piace o che vorreste vedere in modo diverso. Semplicemente quello. Cosa migliorereste nel mio canale? Accetto i consigli, praticamente accetto solo i vostri consigli perché i consigli mostri possono essere molto preziosi per me e magari potrei alcuni, ovviamente nel limite della fattibilità, farne tesoro e portarvi questi minoramenti appunto come li chiedete voi. Quindi qui sotto, cosa migliorereste nel mio canale YouTube? Semplici semplici qui sotto, vi aspetto. Ciao!